Ben trovati a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Aggiornate la vostra applicazione Whatsapp se ancora non lo avete fatto. In questo caso sono su sistema operativo Android, dunque dal Play Store, ma provate anche su sistema operativo Apple, quindi iOS. Perché? Perché all'interno di Whatsapp potreste trovare una nuova funzione a cui magari non avete badato, proprio qui a destra, il mio dito punta, e parlo del pulsante rotondo verde, che normalmente, tenuto premuto e alzato verso l'alto, ci permette di registrare un messaggio vocale. Trovate qui sul mio canale un videocorso proprio al riguardo, invece di stare lì tutto il tempo con il pulsante pigiato. Ma con l'ultimo aggiornamento, guardate, con un tocco passa da registrazione messaggio vocale a registrazione videomessaggio, biglietto di auguri, videomessaggio di auguri ed altri utilizzi. Poi, con un semplice tocco, eccoci ritornati alla normalità. E voi? Sapevate di questa funzione? Provatela, è nuova e pratica, in effetti utile. Ancora un saluto a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto e fatemi sapere se anche voi avete già ricevuto questa funzionalità.